tu vuoi far vedere? Willi, Willi ma fai che senti? andiamo alla sigla e allora è arrivato all'angolo di Willi Willi 10 consigli 10 consigli io ti voglio un bando di pezzo noi siamo in salito mi hai visto il film e tutto il 1950 chi lo fa là? e non ti senti ti faccio il tuo contrario tu sei è lupato guarda questo povero ti vuoi piacere? puoi prendere la presidente degli angeli e fai? puoi prendere l'angeli chi lo lanci? bravo in un ospedale a pace a pace si no, vogliamo portare i matri ti faccio filmare ti faccio filmare bravo ti faccio filmare ti faccio filmare vai bebbino vai contato contato mi sono fatto buon anno si si, sei bellissimo e allora aggiornamento da casetta vecchia ci siamo quasi, manca meno di un chilometro con Laura e il nostro amico Marco Marco del Boscio e Laura ma sta in tuo gruppo esatto casetta vecchia non ci siamo mai come è tanto non abbiamo venuto da dire cosa? è fare tardi e svegliarsi la mattina ecco qui 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 sta che sta ripetendo la casetta vecchia lascia da qua ehi c'è la seconda ripetuta che fa non ci siamo non ci siamo tre o quattro ripetute non ci siamo non ci siamo non ci siamo e Willi dobbiamo salutare la nostra amica Lucia Lucia che stai facendo? non ci siamo ma tutti venivano a casa 80 m2 ma quelle vole che vanno a scendere 40 m2 eeeh c'è sempre da fare c'è sempre da fare il carro mi raccomando la prossima volta c'è stato buono il provolone di Arizzo quel provolone quel provolone quel provolone c'è stato buono ci ho messo che inviterà tutti i amici a casa su perchè? eh non lo so perchè? tutte cose strane tutte cose strane perchè di solito li mangio tutti i giorni dai sapere che lo mangio normale che cosa mi ha mangiato un po' vabbè è tutta la caserta 20 cosa c'è la batteria? mi si attacca a Pippa we love nischio sempre la caserta 20 la di fronte ci sono le osterie le osterie le osterie la signora è una filiglia si è una filiglia si è una filiglia me la presenti? te la presento? e rimaneci qua si si ecco la lacca ci sono le osterie si è una filiglia si è una filiglia mi è un po' la fila sta la faccola qui lì discesa sotto a questa pinetina qua sotto a questo posto batta sotto che saldono le macchine la frescura questa è una frescura e una freddura è una freddura e una frescura batta sotto che stanno le macchine qui lì batta sotto saranacchi qui lì castello di limiatola ok 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 ok